Salve ragazzi, oggi parleremo di agenzie letterarie che sono un po' il sogno di qualsiasi aspirante autore. Chiunque voglia pubblicare infatti all'inizio si convince che per arrivare a una grande realtà, che poi il suo sogno proibito appunto, avrà bisogno di un agente, di qualcuno quindi che abbia i contatti giusti e che possa fare un lavoro di rappresentanza per arrivare ai grandi editori. E questa aspettativa, per carità, non è scorretta in sé. Per arrivare ai grandi editori, sì, di solito serve un'agenzia. Il problema però è che, come al solito in editoria, la realtà è un pochino più complicata. E visto che noi siamo dei bravi autori consapevoli, adesso la capiremo meglio. Dunque, dovete sapere che, oggi come oggi, la realtà delle agenzie letterarie, in Italia in particolare, è un po' strana. Avrete già sentito dire che è normale che vi chiedano di pagare per una valutazione all'inizio e che fanno tutti così, devono fare così, all'estero fanno così sempre. Bene, sappiate che questo non è vero. Cioè, all'estero, in genere, un'agenzia letteraria che chiede dei soldi a qualsiasi titolo, all'autore viene guardata con molto sospetto. C'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, come è in Italia, per ora, non a lungo, secondo me. Però, mentre qui, ormai, ci siamo abituati, ci siamo un po' arresi a questa realtà, all'estero ancora, io ho notato, per quello che ho potuto vedere, io non vivo all'estero, quindi conosco più l'Italia, ecco. Però, da quello che ho visto, da quello che ho sentito da persone che vivono all'estero, non è visto bene questo. Ora, lo premetto. Il fatto che un'agenzia richieda di valutare i testi non è illegale, in sé non ha nulla di male, però pone un problema. Il problema è che, se un autore vuole provare a farsi rappresentare, cioè a richiedere la rappresentanza a 10 agenzie, deve pagare 10 valutazioni, senza alcun motivo. Queste valutazioni sono anche abbastanza costose, per cui vi potete trovare a dover pagare, non lo so, 500, 600, 800 euro per ogni scheda. Ecco, immaginate, se lo dovete mandare a 5, 6 agenzie, dovete farmi un mutuo. Quindi, questa strada non è per nulla fattibile per un aspirante autore italiano. Ma comunque, non è il mio scopo, in questo video qui, sparlare delle metodologie, delle agenti letterari. Ne ho già parlato in altri video, ditemi se vi interessa. Però, volevo dirvi un'altra cosa. Al di là di questo pagamento, se è giusto, se è sbagliato, bla bla bla, c'è un punto che secondo me sfugge agli autori e che dovremmo capire bene. Cioè, oggi come oggi in Italia, guadagnare con i libri è difficile. E su questo penso che siamo tutti d'accordo. L'agenzia nasce, in realtà, per aiutare, per guidare degli autori già consapevoli, nel senso che hanno già dei mezzi per guadagnare denaro, quindi che hanno già delle pubblicazioni di successo alle spalle, che sono dei personaggi, che possono diventarlo facilmente. Cioè, diciamo che l'idea ufficiale di agente letterario è più quella di chi si avvicina a un personaggio già famoso e gli dice cavolo, hai mai pensato di scrivere un libro? In quel caso, il lavoro dell'agente non è tanto quello di convincere un editore a pubblicare quel tipo lì, perché quel tipo lì ha già tutto il potenziale. Dunque, basterà presentarlo all'editore giusto e probabilmente avrà un contratto. Ma allora, cosa farà questo agente? A cosa servirà? Beh, si occuperà di verificare che questo personaggio ottenga delle condizioni positive per lui, che quindi guadagni il più possibile, che gli accordi nel contratto siano vantaggiosi per lui. E poi, magari darà una mano, visto che non necessariamente un autore ha idea di come funzioni l'editoria, a trovare la collocazione migliore, migliore per raggiungere il proprio target, tutte queste cose qua. E magari guiderà poi anche dopo la promozione, per esempio. Tutto questo lavoro è quello classico da agente letterario, che quindi becca il talento che finora nessuno ha usato per fare dei soldi e lo fa. Lo fa lavorando, è un lavoro di tutto rispetto e non è nemmeno facile comunque. Il problema è che invece le agenzie letterarie di oggi in Italia hanno iniziato ad aprirsi agli esordienti, o meglio, a quelli che vorrebbero essere esordienti. Questo in sé è una cosa bellissima, cioè non è un problema, no? Perché noi tutti diciamo, beh, meno male, se no, campo a cavallo, non ci arrivavo mai. Perfetto, è tutto bellissimo. Però qual è il problema? È sempre il guadagno. Considerate che un'agenzia letteraria può guadagnare tra il 10 e il 15% dei guadagni dell'autore per un lavoro che a volte dura anni e anni e che è difficile. Quindi, se io sono un esordiente e, mettiamo il miglior caso possibile, mi pubblica Mondadori, che dà ancora, anche questo non so per quanto, degli anticipi agli autori che di solito, se sono degli autori piccolini, guadagnano l'anticipo e basta, diciamo. Ecco, mettiamo che Mondadori mi dia 3.000 euro, che è già un risultato il migliore che possiamo ottenere praticamente in Italia, no? Se io autore ho preso 3.000 euro, questo vuol dire che la mia agenzia prenderà il 10% o tra il 10 e il 15% di 3.000 euro, che capirete non è tantissimo. Cioè, non ci camperà mai con questa cifra, no? Specialmente perché quanti esordi con Mondadori vuoi fare nel giro di un anno? Come speri di campare materialmente? Se poi hai pure dei dipendenti, come speri di farcela mai così? Cioè, è proprio impossibile. E questo senza contare che possono passare 10 anni senza che tu arrivi minimamente vicino a Mondadori, eh? Dunque, se nel miglior caso possibile faranno la fame, comunque, ecco, capite perché vi chiedono dei soldi. Quindi, questo perché ve lo siete mai chiesti? Cioè, vi siete mai chiesti ma per quale motivo le agenzie pigliano gli esordienti? Se poi non ci guadagnano un tubo? Beh, io vi dico la mia opinione, che è una mia opinione, come sempre, no? Io ho notato che negli ultimi anni, appunto, c'è un fiorire di queste realtà. Ne ho già parlato in un altro video che magari vi linko nelle schede o qualcosa del genere. Questo perché il numero degli aspiranti autori è talmente alto che si potrebbe benissimo campare solo sulle loro spalle. Quindi, di agenzie letterarie nuove, veramente, ne nascono come funghi. Il problema, però, è che mai nella vita tutte queste agenzie potranno rappresentare degli autori fighi, cioè degli autori già conosciuti, già affermati, o che siano dei personaggi famosi che quindi portano guadagni sicuri. Dunque, devono per forza aprirsi agli sfigati, cioè a noi nessuno. Perché se non lo fanno, non ce ne hanno autori e loro ne hanno bisogno, se no, che agenzia sono? Dunque, l'agenzia, un po' così, che sta cercando di emergere, e che, lo dico, può essere anche la più brava del mondo, non è che per forza debba fare schifo se viene aperta adesso, è costretta a guardare agli autori sconosciuti e dunque a crearsi un business che si basi su quello. E ripeto, questo è il motivo per cui fanno pagare per le valutazioni iniziali, perché se no, campacavallo, cioè se tu speri di beccare tutti gli autori sconosciuti che poi diventano king, muori di fame. Certo, questa è la speranza segreta di tutti gli agenti letterari in realtà, però non possono basarsi su questo, se no veramente muoiono di fame subito. Ora, tutto questo discorso, perché ci interessa se siamo degli autori? Beh, ci interessa perché noi dobbiamo capire, nel momento in cui ci affidiamo a un'agenzia, perché lo stiamo facendo e a cosa ci serve, se ci serve a qualcosa. Infatti, nel meccanismo con cui funzionano le agenzie, di fatto non c'è niente di male in sé, però c'è se noi siamo così stupidi da non vederlo, da non capirlo e da affidarci a loro con l'idea che che bello, se sono rappresentato da un'agenzia mi pubblicherà Mondadori domani. No, anzi, vi posso assicurare che nel 80% facciamo, ma dovrei dire di più, dei casi, non concluderete assolutamente niente, magari avrete pure pagato per la valutazione iniziale una bella cifrotta e basta. Del resto, immaginiamo un attimo, se io domani vi dico, ragazzi, ho aperto un'agenzia letteraria, sborsatemi 800 euro a manoscritto e uno di voi magari potrebbe essere rappresentato da me. Certo, io non mi impegno a fare nulla, però se siete felici voi, insomma, l'importante è che vi ecciti questa possibilità di essere rappresentati. Ragazzi, ma quanti soldi farei? Ma quanti? Ma perché non l'ho fatto? Ma perché non lo faccio? Lo dico di nuovo, non sto dicendo che tutte le agenzie sono fuffa e che nessuno fa mai niente. Per carità, ci sono agenti molto seri, in realtà, che vi aiutano veramente. E, detto ciò, le valutazioni in sé servono sempre. Quindi, boh, almeno ricevete quella, pure se non capite cosa fate, almeno si spera che leggiate la valutazione. Però, quello che io vi voglio dire è questo. Nel momento in cui state muovendo i vostri primi passi come autori, non vi mettete a inviare alle agenzie direttamente. Provate prima a cercare confronti che vi costino di meno, uno, che magari possono pure essere gratis. cercate dei beta, porca miseria. Ma comunque, senza stupide illusioni, senza sperare che basti pagare per venire rappresentati e quindi far succedere chissà che cosa. Non funziona così, no. Dunque, quando è un momento in cui possiamo effettivamente aver bisogno di un'agenzia? Nulla è assoluto, ragazzi, e questo ve lo dico sempre. Quindi, comunque, prendete quello che dico con le pinze, dipende tutto dal vostro caso specifico, dalla vostra situazione specifica. Però, in generale, è meglio andare a cercare un'agenzia quando già sapete bene cosa avete da offrire. E avete capito che quello che avete da offrire può interessare effettivamente a un'agenzia che tratta con gli editori irraggiungibili. Cioè, se io devo pubblicare con la prozia Beppa è inutile che pago 800 euro all'agenzia prima perché lo posso fare anche da sola, in fondo. Posso scrivere una mail direttamente. Se invece io dico, caspita, il mio romanzo è adatto al catalogo Mondadori perché è sempre Mondadori ma può essere anche Garzanti che ne so, Newton anche se vogliamo. Quello che volete, no? E quindi volete avvicinarvi a una realtà che magari è un po' difficile da raggiungere così a caso. Il problema qui è la vostra consapevolezza perché chiunque di noi, quando inizia, pensa che il proprio romanzo sia adatto a Mondadori, ragazzi. Ma vi assicuro che nel 99,9% periodico dei casi non lo è. E dunque voi, animati da questo ottimismo idiota, andate lì, sbossate dei soldi, diventate poveri e non avete concluso un tubo. Quindi, i passaggi indispensabili sono uno, l'informazione. Informatevi, capite come funzionano le cose. Seguite i miei video e quelli di altre persone belle che fanno video sull'editoria, già è una cosa positiva. Continuate, scavate sempre di più, fate domande, imparate. Due, il confronto. Il confronto sul vostro testo. Non ci avete i soldi? Allora prendete un esercito di beta reader, almeno 10 e cominciate a lavorare. Non avete tempo? Vabbè, aspetteremo. Non c'è fretta. Fate con calma. Però, il mio consiglio, ripeto, è una mia opinione, non vuol dire che tutti gli agenti sono brutti, non vuol dire nulla se non state attenti, investite i vostri soldini che non si trovano sugli alberi, insomma, con consapevolezza e cercate di mettervi alla prova prima di sprecare denaro senza nessun motivo. spero che questo video vi possa essere utile, magari continueremo a parlarne perché sono argomenti di cui parliamo sempre in realtà. Grazie per avermi guardato, ci si vede al prossimo video. Ciao!